Si allungano i tempi per la messa in sicurezza del Palazzo a Rischio sul corso stritto, quello che sta all'angolo di Via del Carmine, a rischio crollo secondo alcuni rilievi. I termini dell'ordinanza sindacale di aprile del sindaco Pierluigi Biondi sono scaduti già da un po', ma il consorzio Filomusi Guelfi, tramite il legale Fausto Corti che sta seguendo la vicenda, ha presentato ricorso al Tar, sia contro l'ordinanza sindacale per la messa in sicurezza, sia contro una successiva diffida che intimava di svolgere i lavori, a firma del dirigente del settore ricostruzione privata del Comune dell'Aquila. L'Avvocato Corti sta per perfezionare l'iscrizione al ruolo. Per la discussione probabilmente se ne parlerà nei primi giorni del mese di luglio. L'argomento del Palazzo è stato tirato fuori anche nel corso di una commissione consigliare dei giorni scorsi. È venuto fuori che il consorzio, in pratica, non avrebbe la somma necessaria per la messa in sicurezza. Si parla di opere provvisionali per circa 600.000 euro, con il progetto che è già pronto. Il Comune, infatti, aveva chiesto al consorzio una revisione per renderlo meno impattante e sul corso. L'Avvocato Fausto Corti, però, ha precisato che il consorzio, che è un ente strumentale, non può assolutamente avere nelle disponibilità tale somme, in quanto non può fare altre attività che non siano quelle relative ai contributi pubblici presi per effettuare i lavori di ricostruzione del palazzo. Il consorzio per l'Avvocato Corti è parte lesa, anche perché per i proprietari sono ancora lontani i tempi per poter tornare a casa. Da due anni i lavori sono fermi e il consorzio di recente ha messo nero su bianco anche quelli che sono stati danni avuti sul palazzo. Il consulente del Tribunale ha accertato danni per 440.000 euro per il consorzio, 120.000 per la Soalco, l'azienda aquilana che doveva effettuare i lavori di ricostruzione sullo stabile, ma per l'Avvocato Corti queste cifre andrebbero riaggiornate. Nell'accertamento tecnico preventivo il CTU si evidenziavano danni allo stabile da scrivere alla realizzazione dello smart tunnel dei sottoservizi, seppur non imputabili ad imperizia di chi li aveva realizzati, ma piuttosto a una sorpresa geologica. Asse centrale SCARL, come si ricorderà, in una nota rimandava al mittente l'accostamento dei danni al palazzo con le opere dei sottoservizi. Fatto sta che la messa in sicurezza è ritenuta necessaria per la pubblica incolumità e per il momento è stata tamponata dal tunnel pedonale nel corso stretto. Il Comune, una volta districate le questioni negli ari del Tribunale, potrebbe sostituirsi e realizzare lui stesso e probabilmente così si farà queste opere, ma da debitare a chi? La vicenda è intricata, visto che c'è anche un contenzioso con asse centrale SCARL. Di ricorsi ne sono arrivati due, uno del consorzio Filomosi Guelfi e l'alto del progettista, l'ingegner Valentino Perilli. Una vicenda che farà ancora discutere e che si deve ancora dirimere nelle aule giudiziarie, certo è, e che si parla ancora di messa in sicurezza e non di ricostruzione. I tempi per tornare nel palazzo sono ancora lunghi e tra l'altro si vuole assicurare anche la sicurezza di chi ci passa nel corso stretto, quindi queste opere sono da non ritardare.